allora nicola sette anni fa esordivi con la maglia della juventus nella supercoppa italiana che cosa ti ricordi di quel giorno e che cosa è cambiato da quel giorno per te ho sette anni oggi mi ricordate che compio sette anni con questa maglia è meraviglioso magnifico per un calciatore penso sia sia il massimo il sogno vestire la maglia di una squadra così grande prestigioso come la juventus per tanti anni e spero comunque di farlo qualche altro anno ancora quel giorno lì è stato un giorno bellissimo dove ho alzato per la prima volta un titolo una coppa per lo più c'era anche un un passaggio molto molto bello chiave di quella vittoria che è stato l'ultimo secondo mi ricordo un mio inserimento dove ho permesso a tre segreti fare gol e quindi me lo ricordo ancora con più piacere è stata una bella una bella trasferta non bella un bel inizio poi c'è stato un momento un pochino negativo ecco un po come va la vita non sono dei momenti belli dei momenti meno belli ma oggi sono qua a parlare solo dei momenti belli perché i meno belli servono per esperienza per farti crescere e io ecco in questi sette anni sono arrivato in un certo modo e oggi mi ritrovo ad essere un'altra persona cambiata e c'è anche un piccolo merito anche per la juventus per questo ambiente che mi ha mi ha accolto come un figlio e oggi mi ritrovo adulto senti nicola sul presente come stai ti sentiamo dalla voce che è ancora leggermente diversa rispetto al normale però sei pronto per il ritorno di europa league ti vediamo sì è una settimana tribolata ho avuto un po di febbre con connesso al raffreddore tracheite di tutto molto di tutto ma il periodo so che c'è un virus in giro io qualsiasi virus lo becco ultimamente e sto bene giovedì penso di essere disponibile poi mi rimetto sempre nelle mani dell'allenatore se lui deciderà di farmi partire dall'inizio sarei sono contento ecco per questo per questa scelta se miste fa fa questa scelta se no attenderò altre partite per poter riniziare un ciclo di partite come ho fatto inizio dell'anno però sono molto fiducioso senti ascoltando anche le interviste dei tuoi compagni sembra che davvero si respiri una bella atmosfera in juventus dopo questo mese di ritiro tutti parlano molto bene di del neri che c'è un bell'ambiente lo spogliatoio funziona insomma questo è positivo no in vista dell'inizio poi della stagione ufficiale ma io penso di essermi espresso più volte prima dell'arrivo del mister continuo a dire che è la persona giusta nel momento giusto lui se se viene seguito dai giocatori se veramente credono in quello che lui ci ci dice in campo allora puoi fare solo bene con lui mister è così però è chiaro che tanto dipende da noi quando arriva un allenatore se il giocatore non crede nel progetto dell'allenatore della società è come se cammini con un peso di 50 kg attaccato al corpo e quindi fai più fatica ad andare avanti ma se tutti quanti hanno credono nello stesso progetto e credono in quello che l'allenatore dice allora il peso sarà molto più leggero allora squadra può andare molto più più veloce avanti a raggiungere un obiettivo io ci credo sono il primo l'ho sempre detto credo nei suoi metodi credo nel suo modo di lavorare e soprattutto nel nell'attenzione che da lui ai singoli alle singole sfaccettature calcistiche sia in fase difensiva in fase offensiva penso che l'area che si respira è diverso perché quasi naturale quasi naturale a volte per essere buoni e umili bisogna sempre prendere una facciata contro il muro o una testata come come la vita si è si è umili sempre dopo che ci si accorge che che non sei nessuno e quindi prendi umiltà e riparti con la coda in mezzo alle gambe e quindi penso che questo è stato l'anno scorso per noi abbiamo preso una grandissima batosta e quest'anno siamo ripartiti con l'umiltà ecco la grandezza di una squadra se una squadra invece parte sempre con questa umiltà ora ce n'è di traguardi da da raggiungere quindi penso che questa è l'area che si respira e che noi dobbiamo cercare di tenere fino alla fine perché come dico sempre l'umiltà è quello che ci deve contraddistinguere e se lo mettiamo in campo avremo risultati senti nicola per chiudere si parla tanto di crisi del calcio italiano oggi roberto baggio ha detto sì come presidente del settore tecnico federale si dice che possa portare tanto un giocatore come lui nel calcio dopo che ha appeso le scarpette al chiodo ma in realtà ha una competenza è una passione per il calcio infinite ma sicuramente sì penso che uno del dei mali di questo secolo è l'ignoranza la mancanza di conoscenza su certe cose quindi più gente arrivi in un ambiente con più conoscenza e più le cose possono migliorare roberto baggio è un esempio lui ha vissuto da campione tanti anni quindi lui conosce bene l'ambiente del calcio e lui sicuramente potrà portare degli sviluppi molto positivi all'interno del calcio italiano c'è un qualcosa da da ristrutturare io parto e partirei sempre da dai settori giovanili dove è lì il fulcro non solo i settori giovanili ma anche le famiglie perché se vogliamo vedere gente di un certo livello morale e tecnico che sono per me sono abbinati dobbiamo arrivare lì dobbiamo partire dalle famiglie e settori giovanili e quindi poi ci ritroveremo ambienti sani dove usciranno anche dei campioni in grado di fare la differenza